Siamo nello stand Duravit con l'amministratore delegato Ivo Giacchi. Quali sono le novità che presentate quest'anno? Allora, quest'anno presentiamo come novità una nuova serie di mobili, che è questa qui vicino a noi, di abbinamento a una già esistente serie di sanitari, la serie Vero, quindi i mobili per la serie Vero. Sono disegnati da un designer per noi nuovo, è un designer di origine africana e cittadinanza svizzera, che avremo qui da noi domani per la prima volta. È una novità e quindi, diciamo, un qualcosa anche indirizzato ai nuovi designer, quindi dopo la nostra grandissima esperienza avuta prima con Stark negli ultimi venti anni. Quali altre collaborazioni avete con quali designer? Beh, oltre a Stark, Matteo Thun, EOS, un gruppo di designer di Vienna, Martin Bergman in particolar modo, Phoenix, abbiamo lavorato anche sempre in questo momento un po' di stop con Iosaghini, con Michael Graves, con tanti. Il vostro target qual è? Target possiamo fare riferimento a quella che è stata un'affermazione storica del nostro ex presidente, dal jeans allo smoking, per cui credo che siamo in grado di offrire prodotti di design per tutti i target di prezzo, ecco, quindi non siamo un'azienda che segue solo il design a prezzo alto, ma siamo in grado di offrire design a tutti i livelli di prezzo, appunto dal jeans allo smoking. E come visitatori quest'anno sono italiani, stranieri, come sembra l'affluenza? No, questa fiera è sicuramente internazionale, questa mattina arrivando in fiera, quindi nel tunnel, la uscita della metropolitana, più di una persona ha potuto affermare di essere circondata da un fiume di persone ma di non sentire nessuno parlare italiano, cioè c'erano tutte le lingue del mondo e credo che questo per l'Italia, per noi produttori, per Milano in particolar modo sia qualcosa di molto importante.